Qua ci sono le royal caribbiano, quelle mie, belle, belle C'è una che è 320, 330, 320, questa qui che si è andata 2,60, 2,50 Qua ci sono le royal caribbiano, quelle, 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 quelle La banca? mi chiedi pure quando mi metti il moto visto? spostano se devi andare per questa campagna e sennò su la destra quindi girano in due sensi non sia a destra che a destra se puoi fare manovra nei porti si se qua girano così, fanno pubblicità ma veramente non c'è la qualità grazie E' meglio questo Quello Quello Guarda che gli inglesi sono appassionati All the style No invece E' tutto super lusso Super tecnologico Lì è in Piano Barre In Caparello Stai Stai usando le righe di colare Questa è la crociera alle Non è maltesi però girano No ciao 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 si si il si il 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 Grazie per la visione Sono cint'anni e mamma Sono cint'anni Sono cint'anni